Ciao ragazzi da 100% social e benvenuti in questo nuovo video Il Tosinone chiude il girone d'andata con una vittoria importante un netto 3-0 alla Ternana, lo chiude questo girone d'andata in testa alla classifica 3 punti di vantaggio sulla Elgina, 6 sul Genoa e si appresterà quindi dopo queste settimane un po' di stacco al girone di ritorno con l'obiettivo di confermarsi, sapendo comunque che visto poi anche il mercato di gennaio e vista comunque la presenza di squadre importanti, non sarà sicuramente semplice e scontato, come del resto lo è sempre, il campionato di Serie B Un Tosinone che dopo un primo un po' di studio, di fatica anche proprio fisica in certe situazioni di poca lucidità nella gestione della palla in alcune situazioni dove comunque la Ternana era ben messa in campo la Ternana è una buona squadra che ha l'obiettivo comunque di stare nella zona playoff e può farcela tranquillamente poi verso il trentacinquesimo andando verso la fine del primo tempo sostanzialmente il Fusinone inventa un'azione incredibile tutta di prima lancio lungo per Insigne la appoggia a Rodien che dal lato corto dell'area mette il pallone in mezzo per Mulattieri che appena gli arriva il pallone lo scaraventa in porta sul primo palo coperto dal portiere tra l'altro Ciociaro Giannarilli e sigla Mulattieri l'1-0 il suo sesto gol in campionato eguagliando i sei gol dell'anno scorso però nel campionato complessivo Fusinone che nel secondo tempo fa quello che vuole grosso nonostante comunque anche l'assenza importante come quella di Mazzitelli a centro campo può contare su un Daniel Boloca in uno stato di forma veramente importante ma in generale tutti sanno cosa devono fare magari non sempre si riesce a a far venire fuori l'azione come si vorrebbe però poi quando il meccanismo gira perfettamente il Fusinone va a mille un'azione poi quella del 2-0 che vede Mulattieri protagonista il movimento che fa Mulattieri una cosa molto bella riesce a prendere il tempo al difensore si allarga poi va verso l'area di rigore vede Insigne lo serve un po' il gol di Insigne è come quello quasi che aveva fatto ad Ascoli tra l'altro proprio anche suo assiste di Mulattieri e Insigne dal centro dell'area si sposta il pallone e si gradua il 0 poi sul 3-0 ancora Insigne protagonista si autolancia in qualche modo perché inizialmente credo fosse per Mulattieri il passaggio poi però Mulattieri si disinteressa Insigne fa la corsa su se stesso decide di fermarsi di gestire la palla la mette in mezzo credo per Boloca Boloca poi apre dall'altro lato per Garritano Garritano arriva in area di rigore guarda la porta e fa un tiro a giro molto molto pulito che sbatte anche un po' sul palo e poi va tranquillamente in rete un Frosinone che gioca di scioltezza di giocando con tutta la consapevolezza che in questo momento ha di riuscire a fare l'azione di costruirla in maniera intelligente questo è merito di Grosso ma vanno dati anche i meriti ovviamente ai ragazzi che stanno seguendo Grosso in tutto per tutto e probabilmente con una squadra dall'età media superiore forse non sarebbe stato possibile ci sono giocatori di esperienza ma sono al servizio di tutti di tutta la squadra dei più giovani e non non c'è quella magari che come posso dire quella quel senso di superiorità che invece poteva venire fuori no tutti sono tutti i senatori magari anche chi è fuori per l'infortunio è al servizio dei più giovani questo è fondamentale per questo Frosinone speriamo dal mercato magari di riuscire a puntellare quel paio di ruoli che servono e vedremo poi nel giorno di ritorno cosa ne verrà fuori per questo video è tutto vi vedo schiacciare il canale mentre vi piace vi auguro buon fine anno e buon inizio anno e noi ci vediamo alla prossima dopo Frosinone in Modena ciao